Musica 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 Buongiorno Ciao Italia Ciao Malol E Cameric Non lo so Dici tu quando sei pronto Anche ho un grande fratello Ciao Carmin Ciao Carmin A presto Quindi ci hai pensato buono C'è firmato Perché prendevi i lavori per terra? Guarda come sta Comparo a poco ti raggiungiamo anche noi Io mi sposare ho passato a Sabini Forse Non è poco a meno unico Ciao che cravatta E' un po' E' un po' E' un po' Fatto come generale E' un po' Sabini già sta Si comunque auguri A Sposso Ciao Ok Complimenti Complimenti Lì? Guarda come guarda Cosa ci ho immaginato Guarda Che gli diciamo? Auguri Scusi Ciao Sì Ciao noi noi facciamo la vita Ci sono le quattro E noi facciamo la vita bella La vita bella facciamo noi Bella vita Bella 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 Auguri Auguri Sì Nipotino Nipotino egiziali Ciao Quanto su fa play? Siamo adesso Ciao 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 Auguri Auguri Adesso vogliamo mangiare Ciao Non ce la facciamo prima Abbiamo fame E' la nuca se è Fame 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 Sì 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 Buongiorno Buongiorno Tappos Ci ha fatto mangiare troppo tardi Sì 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 Possiamo dire che adesso abbiamo mangiato un po' Possiamo un po' Sì 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 La funzione al volo Aspetta siamo in diretto con i fratelli esercitati Così C pernah No, ma non c'è se c'è un po' l'altra ragazzi Non abbiamo manca i soldi di mano a fare un po' l'altra No, dai cava che ragazzo Quindi lì ascoltiamo capigliere il busto Ma c'era qualcosa di soldi per l'aspetto Quanto esce? 90€ prova a metterla No, c'è 50€ Con tutta la tua storia E fa una cosa, c'è una ricezione e chiusciamo una bottiglia Saluta tu Tanto la cura non sopavano Stavamo detto prima Questo è il terzo filmino, il quarto mi ha cominciato a provare Auguri agli sposi L'ho detto già Ma è già attiva? Tipo selfie Maria, auguri! Auguri ragazzi Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Auguri da mamma e papà Da mamma e papà Eh papà, ha fatto tutto questo Ha fatto tutto questo Sono i primi amici Sei l'orgoglio della nostra famiglia! No no Se è l'orgoglio della nostra famiglia È vero Bia ciao Aspetta che mi scendo Aspetta che non c'è niente Vai Ma è già attiva? Sotto sole, sotto sole Maria, mi hai spiegato una cosa, hai aiuto a trovare questo compagno e mi hai fatto come hai fatto per trovare, l'interno hai aiuto a trovare, voglio mettere la compagno e poi risparmiamo, ora compagno auguri ciao ciao sposi auguri Carmine mi dispiace ormai la bicicletta la stai usando anche tu ciao ciao Maria, tanti auguri auguri Carmine ho voluto e ora ti chiedi ho nominato Antonio perché mi è di padre tanti auguri tanti auguri auguri Nelly ma fammi sentire una cosa, ma quanto mi senti la bus? 400 euro Marona, che buss oggi è la miglia bussetta che noi allora vi ringraziamo che ora è venuto vino i primi ci avevamo manciato tu ti ha mangiato dei camperette caso dei bottigli amici per notare che Sabine abbia parlato quando hai visto vino diceva una parola prendi il cappistemente se l'è in tacco frate ti roppi io ho il cappistro bevo 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 mi ubriaco e sono felice anche se poi vomito chissi levo 50 euro dai busto dai a me c'è una ruota fatti c'è la stanza mi raccomando le buste non abbiamo niente da dirti soltanto una sola cosa importante che non abbiamo soldi che non teniamo soldi per farti la busta l'unica cosa che abbiamo sono dei sacchetti di spazzatura e non abbiamo neanche il gasolio per tornare a casa e l'autostrada se potete darci qualcosa di sordi per andare un'altra volta a casa oppure ci accompagni vedi un po' come devi fare o chiamo un tassi o chiamo un cavallo o chiamo però noi dobbiamo tornare a casa o un gammello o un dromedario o qualcosa per andare a casa vedi tu noi siamo a tua disposizione la nostra presenza spera che ti sia fatto piacere tanti auguri tanti auguri a te e alla sposa ora andiamo a finire di mangiare e con la speranza ci accompagnerà a casa va bene? grazie buonasera chi l'ha fatto meglio? dici quanti siamo pronti allora tanti auguri da mamma e papà cento di questi giorni e non ci voglio fare la rumena guarda la casa vostra ehi buongiorno sotto la sola sotto la sola nel confessionale dei grandi fratello devo confessare una cosa il lavore ci rendiamo conto di cosa Carla? ma ci rendiamo conto di cosa? ma noi siamo fatti a giubballate e per Carmina ok? ma me o per Carmina? no ma Carmina è una nuova io sappiamo come si chiama io sappiamo Davide non lo chiamo proprio però allo stesso modo cioè siamo a scegliere senza offesa cioè più alto bravo comunque ti volevo dire sotto la sola sotto la sola lascia stare banda le chiacchiere Maria tanti auguri buon compleanno ciao ciao grande fratello grande fratello grande fratello discorso 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 eh no ma in giudizio mi sopra la vita è su ha sempre fatto niente ma amici che può fare nulla grande fratello noi abbiamo fatto le promesse e manca che l'ha portato a te oi ho decisamente di parlare in una lingua un po' più modesta è più modesta chi lo parla parla buona e non capisce sotto la sola sotto la sola allora parliamo più modesta più modesta gli abbiamo fatto una promessa solo che noi non la portatemi come dobbiamo fare ma è già attiva diteci domanda 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 ma aspettiamo a capire a capire a capire la matuccia ha fatto una domanda non mi ricorda domanda a capire ma secondo me non la capire nemmeno lui non la capire il fratello che sarebbe l'angelo ha fatto una promessa a un amico solo che non l'ha mai portato a termine questa promessa è sempre quando la portiamo a termine quando? 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 auguri agli sposi da parte per il mio padre va bene? auguri agli sposi e tanta felicità ok vai siamo le amiche e sorelle e cugine della sposa auguri Maria auguri auguri di un'eterna felicità la prima è femmina no anche maschi basta che sono niposi la prima è femmina facciamo un brindisi al nostro giorno grazie grazie a tutti e ora inizia il divertimento ciao e io ci capisco la cimono brindisi alla salute e alla felicità e c'è da e mi raccomando il bus e la faccio non vi dà più io non mi faccio scia in un ristorante come ce lo faccio mi guarda vede che cosa che panni dobbiamo guardare in alto allora ciao Carmine ciao Carmine Maria auguri auguroni auguri felici di cuore e queste cose queste cose sono morbide allora chi si casa che metti un bagno abbiamo proprio cresciuto ma chi si sconcola su questo devo fare un applauso questi sono che i bus sono più pesati eeeh allora che si deve fare ricapitolando ecco io compagno mio Peppe è rimasto senza un euro ehi ma raccomando i bus e senza naffo ti andiamo a torniamo al discorso scusate quindi ora visto che ti trovo presente ci servisse una cosa di solito mettere una naffina o ci accompagni non per essere scusate no non rispondo mi ha messo 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 aspetta voglio una mia nomination ma proprio musicante chi ha suonato eh ma mancano ma non c'è amici mancano molti amici che se c'erano però te li potevano forse era meglio forse potessero peggio però secondo me non potremmo riuscire lì non ce ne frega perché noi siamo i ragazzi che ce l'abbiamo duro eeeh oh vieni qua per cosa vieni qua per cosa vieni qua franco moreno mi ha messo mi ha messo invece Alberto Selle mancano flusso un anno se ne chiude allora ci siamo come sta mamma guarda così siamo carichi noi siamo carichi due uno tre due uno e dopo aver trascorso una bella giornata sperando che tutti si siano divertiti ovvio Caterina eeeh e se abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto con amore come lo facciamo sempre si allora io parto dal presupposto adesso facciamo i seri abbiamo scherzato finora però facciamo i seri si io mi diverto e passo una bella giornata penso sia la stessa cosa altrettanto per te certamente eh deve esserlo per forza anche per le persone che ci sono intorno e che ci seguono ma io penso che loro adesso stanno aspettando la cosa più importante Caterina a Carmine e a Maria a tutti i familiari a tutti gli amici a tutti i parenti vogliamo augurare ancora cento di questi giorni un grande amore un grande sentimento un grande amore grazie a voi per averci onorato buona vita ragazzi buona vita della nostra presenza vedetevi tutto della vita tutto tutto il bene qualche volta c'è qualcosa di male prendetela così vivetela tutti i giorni basta essere uniti ma soprattutto amatevi e come dirò dopo nel mio spettacolo se lo spettacolo vi è piaciuto andate a casa ditelo a tutti se lo spettacolo non è stato di vostro gradimento fatevi grazie vostre e non lo dite nessuno ciao Caterina Russo però in questo augurio siamo in tre solo che il terzo non si vede ancora lo vedremo tra qualche mese si vedrà tra qualche mese auguri auguri ciao allora un ringraziamo tutti ringraziamo di aver partecipato a questa nostra festa spero che siete rimasti contenti buonasera a tutti ciao ciao grazie un uccione grazie a tutti Grazie a tutti